Ok, ultimamente, l'ho fatto vedere stamattina sul canale, abbiamo avuto un andamento dei mercati non sincronizzato, cioè Mib e DAX sono saliti senza fare ritracciamenti, cioè in modo quasi verticale. Il Nasdaq era salito prima e quindi negli ultimi due settimane si è fermato attorno ai 16.000 punti, quindi un po' più su, un po' più giù. Quindi, petroglio è sceso parecchio, adesso si trova attorno ai 70 dollari, era 76-77 e l'euro dollaro era arrivato a 1,10 e stamattina era 1,075. Quindi, l'ho fatto vedere sul canale, praticamente abbiamo un andamento che non è uniforme tra i vari mercati. Quindi anche chi segue i minicicli deve sapere su che mercato sta operando, perché la sincronizzazione, che sai che è un aspetto molto importante, non è uguale per tutti i mercati. Cioè, abbiamo un'onda planetaria che è uguale per tutti i mercati e poi ci sono i singoli mercati che rispondono in modo diverso. Ecco perché noi dobbiamo capire, sapere un pochino anche come sono, diciamo, strutturati questi mercati, cioè com'è la struttura di questi mercati, se ci vogliamo andare sopra, se vogliamo fare, diciamo, delle operazioni. Infatti qualcuno nella passata onda a ribasso era entrato sul petrolio a ribasso e infatti l'onda era a ribasso e il petrolio è sceso. Se qualcuno l'avesse fatto sull'euro dollaro avrebbe guadagnato, se qualcuno l'avesse fatto sul Nasdaq non tantissimo ma avrebbe guadagnato. Siccome noi l'abbiamo fatto su Mibedax, cioè l'abbiamo fatto nel senso che noi seguiamo principalmente Mibedax, noi avevamo l'onda a ribasso e il mercato è salito, quindi praticamente c'è stata una perdita, no? Certo. Ma questo perché abbiamo mercati che rispondono in modo diverso perché ogni mercato ha la sua struttura. Ecco, tu come te la cavi un po' con la lettura dei grafici, lettura dei grafici di analisi tecnica, così proprio senza sapere tutte le implicazioni, ma così come lettura? A che punto sei? Diciamo che siamo a un punto base, allo stesso modo quando uno consulta il canale è abbastanza, diciamo così, intuitivo vedere l'andamento dei minicicli, capire i vari inversioni, quindi è agevolato in questo. Allo stesso modo, credo che la parte importante sia fare esperienza e, tra virgolette, intuire la giocata di anticipo che poi è a descrizione di ognuno di noi, no? Facciamo l'esempio del Mibedax, che sarebbe stato opportuno anticipare tra l'uno e il quattro, mi sembra scrivere questa mattina, no? Sì, sì. Invece parlavi, non so se euro, dollaro, petrolio, non ricordo quale mercato, di posticipare qualche giorno. Esatto. L'esperienza, diciamo così, sta tutta lì, tra virgolette, in queste finezze. Esatto, esatto. Direi che se tu, diciamo, operi su un mercato, su due mercati, su tre mercati, un pochino li devi seguire, cioè devi sapere che cosa sta facendo in quel momento. Informarti, certo. Ecco, così a grandi linee. Adesso, se vuoi, ti condivido lo schermo, vediamo un po' come sono messi questi mercati. Perché c'è, appunto, questa differenza. Questo è l'euro-dollaro, no? EUR-USD. Cosa ho fatto vedere stamattina, no? Che l'euro-dollaro... Aspetta, ecco, ho ingrandito un po' lo schermo. L'euro-dollaro, qua, ha fatto una buona inversione. Diciamo, eravamo più o meno qui. Questa è l'onda ribasso, eh? E questa, invece, è l'onda rialzo in cui ci troviamo adesso. Quindi, nell'onda ribasso, il mercato era salito leggermente, poi è sceso e è andato anche oltre la data del 4-12. Sì, si è prolungato un po', esatto. Esatto, ha prolungato un po'. E ho fatto vedere che, praticamente, stamattina era arrivato, diciamo, ieri sera è arrivato, più o meno sul massimo precedente. Cioè, ha fatto un movimento da qui a qui e da qui a qui. Questo è il 50%, si dice, di ritracciamento di questo movimento. Ok. Ecco, quindi diciamo che sul 50% uno può avere anche un'indicazione tecnica che lì sarebbe opportuno, magari, entrare se vuole seguire l'onda, no? Certo. Bisogna vedere anche, cioè, osservare come si è comportato questo mercato, in questo caso specifico l'euro-dollaro, anche nelle onde precedenti. Vedi, ad esempio, quest'onda qua, a ribasso dall'8-11 settembre fino al 5 di ottobre, l'ha fatta molto bene. Sì, l'ha seguito completamente. Sì, questa, diciamo, partita il 5 ottobre e anche questa, comunque, dovrebbe essersi chiusa in positivo. Sì, c'è stato un rialzo iniziale, quindi in teoria è un nuovo. Sì, questa più o meno in pari, questa positiva, perché da qui, diciamo, dal 3-6 novembre, eravamo a 1-0-60, è arrivato qui che era 1-0-90-93, quindi diciamo che l'ha fatta bene. Certo. Questo qua, ad esempio, è il petrolio, che ultimamente sta andando abbastanza bene con i minicicli. Diciamo, da qui, il giorno 20 novembre, eravamo a 77 dollari. Adesso siamo a 69-70 circa. Anche quest'onda, diciamo, anche a chiuderla qua il 4 sarebbe stata profittevole. Però, stando un paio di giorni in più, qua ci sarebbe stato un guadagno maggiore. Sì. Ecco, più o meno era successa la stessa cosa anche qui, vedi, tra il 3 e il 6 novembre c'era l'inversione a rialzo e il petrolio era sceso altri due giorni. Quindi, da qui, diciamo, dall'inversione qua, del 20, 19, 20, 23 ottobre, che si trovava qua. Storia a cercare delle analogie. Esatto, cercare delle analogie anche visive. Dopo, se vuoi, puoi aiutarti anche con l'analisi tecnica, ma già sapere se tende ad anticipare, a posticipare, come si è mosso. Ad esempio, qui, 23, 8, questa era un'onda perfetta, perché già qui era andato a favore, no? Qui era andato a favore. Qui era sceso bene. Qui perfetta, proprio il 23, 8, sul minimo dei minicicli, qua era già partito e addirittura è andato dopo, oltre l'onda. Però aveva beccato un movimento da 79, diciamo, fino a, fino a qui, 79, fino a 88. Eh, sì. Qua sul petrolio, avevamo provato un paio d'anni fa, due, tre anni fa, facevamo le soglie a 3, 6, 10 dollari. A 10, come il MIB, analogamente. Esatto, vediamo qua se avrebbe preso lo stop loss, quindi se noi fossimo entrati a 87, no? Sempre con la strategia Tris, 87, quella dopo entrava a 90, la quarta quota, a 93 entrava la quinta quota, qui vediamo, ecco, e qua saremmo probabilmente andati in stop loss. No, no, 87 non saremmo andati in stop loss, quindi sarebbero entrate tutte e cinque le quote, perché se noi fossimo entrati qua a 87, lo stop loss era a 97, giusto? Sì. Perché se tu entri a ribasso a 87 sul petrolio, 10 dollari di stop loss saremmo usciti a 97 in stop loss, mentre qui non c'è arrivato. Quindi sarebbero entrate le cinque quote e qua sarebbero uscite 83, quindi noi avremmo avuto un guadagno. Ecco, avremmo avuto un bel guadagno. E poi qua, comunque l'ha fatta giusta, qua l'ha fatta giusta, qua sarebbe andato più o meno in pari forse in leggera perdita, questa l'avrebbe fatta giusta, insomma. Ecco, vabbè, adesso ti ho fatto vedere petrolio ed euro-dollaro perché sono dei mercati alternativi agli indici. Grazie a tutti.